Salve amiche, piccolo vlogghino, è domenica, è una bellissima giornata e con la mia famiglia siamo andati a pranzo fuori, ecco uno che non guarda prima di mettersi, siamo ritornati, io sto raggiungendo il mio studio per preparare quello che mi serve domani al lavoro. Un rosso, attenzione perché ecco, grazie, diciamo che in questo posto ci sono tantissime stradine, bisogna stare attentissimi perché si corre il rischio ragazze di fare un busso, perché comunque la gente, ho notato che è molto distratta e proprio nel guidare la macchina non ha quasi condizione, va un po' così alla Carlona e quindi insomma bisogna stare attentissimi. E voi oggi cosa avete fatto? Oggi è una giornata di festa, ho visto che c'era tanta gente che si è spostata, ecco qui vedono che parlo e mi guardano con fare sospetto, ecco io sono arrivata, adesso parcheggio, che bello, non c'è nessuno, si trova parcheggio, bellissimo. Ciao ciao!